Vigilia di Natale macchiata dal sangue a Palermo dove si è registrato un altro incidente mortale, successo intorno alle 5.40 di questa mattina. Una smart, per cause ancora tutte da accertare, è andata a schiantarsi contro un pilone della rotonda di Viale Lazio in circonvallazione mentre stava viaggiando verso Viale Michelangelo. Il conducente di 22 anni, Michelangelo Aruta, è morto finendo nello spartitraffico, mentre il passeggero, 17enne, è stato portato in ospedale Villa Sofia dove è arrivato in gravi condizioni. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la vittima e il ferito dalle lamiere. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è arrivata la Polizia Municipale per effettuare i rilievi. Il sottopasso è rimasto temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni.